Claudia Pandolfi, siamo qui per The Bad Guy, intanto bentornata su Spettacolomania. Grazie a te per essere venuta, di nuovo, amica mia. È sempre un piacere. Allora, parliamo di Luvi. Luvi, già questo nome che evoca proprio una femminilità tosta e oserei dire anche un po', come dire, mitica. Raccontaci di Luvi, chi è questa donna? Sì, già il nome è complesso. Luvi è la contrazione di Luisa Vittoria. Luisa Vittoria Brai è figlia di un illustre magistrato, vittima della mafia e moglie di Luigi Locascio, che è altrettanto un magistrato molto capace e bravo. Io sono un avvocato, un avvocato competente e potrebbe essere anche già tutto detto, anche già tutto visto e invece non è così perché Luvi è veramente una che sovverte la narrazione. E adesso tu sai che questo è un crime, un po' una commedia, quindi se io ti svelo delle cose ti rivelo la serie. Sappiamo benissimo quello che possiamo dire e quello che non possiamo dire, anche noi che abbiamo visto i primi tre episodi. Davvero l'hai visti? Ti è piaciuta? Sì, sì. A me è da morire tantissimo. Anche a me, anche a me tantissimo l'ho vista, naturalmente l'ho vista, ma già quando l'essi io ho trovato questa sceneggiatura veramente atipica e proprio mi ricordo che sono saltata sulla sedia. È anche difficilmente, come dire, catalogabile, no? Non gli puoi dare uno stile preciso. Sì, addirittura è stato coniato questo termine che è a metà tra il crime e la commedia e quindi hanno detto crime di, che buffo. Senti, una cosa che mi è piaciuta molto di Luvi è che è una donna di successo, di grande successo, l'avvocato più bravo che c'è in giro e poi però, vabbè, accade qualcosa per cui lei affranta dai sensi di colpa, si dispera, cade in una sorta di depressione, ma il piglio non lo perde perché quando c'è da tirare fuori le unghie, anche in piena depressione, lei le tira fuori. Sì, diciamo che lei ha sempre un po' dimostrato capacità, no? Di grande agilità nella vita, soprattutto quando accadono eventi così drammatici e importanti. Sì, però sì, non perde il suo piglio e niente, lei va dritta perché lei ha una strategia, però non lo dirà nessuno. Tra l'altro ha avuto anche un forte dolore, insomma, nella vita, gli è stato ucciso il padre dalla mafia, per cui è fortissima. Sì, sì. E' Claudia Mandola. No, 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 non sono neanche la metà di Luvi io. Grazie Claudia, buonasera. Grazie a te. Sì, alla prossima. Ciao, a presto.